Questa trasmissione è offerta da Ristorante Pizzeria Napoleone, cucina tradizionale, specialità di pesce e pizzeria. E inizia il nostro magazine Car World, il magazine dedicato all'auto e all'automobilista. Ed è a proposito di auto, tante novità grazie a queste case automobilistiche. E allora sarà il caso della Stracciari con la Ford, sarà il caso di Maresca Fiorentino che ci ospiterà anche in questo caso con una novità per quanto riguarda la Fiat. E poi tanti consigli e suggerimenti in pillola per voi autisti e le vostre auto. E allora noi siamo pronti a partire, inizia il nostro magazine Car World. E grazie a Maresca Fiorentino ma soprattutto qui con noi Ivano che salutiamo parleremo di una grande novità come amo dire io in casa Fiat. E allora di cosa stiamo parlando? Parliamo di tipo, è una nuova macchina Fiat, una macchina berlina per la famiglia. Tipo è in due motorizzazioni, 1.4 benzina Euro 6 e 1.620 cavalli diesel Euro 6. Sono macchine completamente accessoriate, per accessoriate si intende una macchina completa già di clima automatico, di sensore di parcheggio, di cerchi in lega, di radio con bluetooth, navigatore. Tutto a partire da 12.500 Euro, tassa di matricolazione esclusa che vale da provincia a provincia. Diciamo che della Tipo non è rimasto nulla, però grande nuovo design. È rimasto il nome, è chiaramente un nome storico, marchio storico di Fiat. Chiaramente adesso le macchine vogliono sempre più accessoriate, sempre più rifinite e Tipo rispetta questa caratteristica. Avanti a questo prezzo molto particolare, ricordiamo però il pagamento. Il pagamento c'è la possibilità di avere un paio di finanziamenti per tipo. C'è un finanziamento agevolato, un tasso del 2,95%, compressivo di incendi, furti e atti vandalici, oppure con uno sconto inferiore di un migliaio di Euro c'è il tasso zero. Tasso zero anche per l'intera cifra fino a 60 mesi. Quindi il cliente ha una scelta, ho una rottamazione solo di 1.000 euro anziché di 2.000, mi posso prendere il finanziamento tasso zero senza interesse. Pure l'altro finanziamento che è comunque un tasso agevolato che mi permette comunque di non pagare troppo la macchina. Ecco, Ivano diciamo pure che i tassi Fiat, comunque le proposte Fiat, sono sempre sempre solo interessanti. Bassi, bassi. Allora, abbiamo per voi da Maresca Fiorentino, che si trova a Borgo Panigale, ovviamente all'indirizzo che vedete in sovrimpressione, questa nuova tipo che veramente è da vedere, toccare con mano e quindi all'insegna di venite lì a trovare. Se ti vuoi prendere cura dei tuoi amici animali con servizi e prodotti di qualità, vieni a trovarci all'Arca di Noè. 500 metri quadrati di esposizione con un vasto assortimento di accessori, cucce, cappottini e prodotti per l'alimentazione delle migliori marche. Qui da noi potrai anche acquistare, in estrema garanzia, pesci e animali di piccola taglia ed usufruire del servizio di toilettatura. L'Arca di Noè, il meglio per il tuo animale. E a parlare sicuramente di vacanze non c'è niente di più oggettivo che un camper. Tanti e tanti camper da Casa Magli, qui con me Monica, la titolare che saluto e ringrazio per l'ospitalità, ma soprattutto tanta scelta di Imer, ma oggi la novità è anche, e ti chiedo perché, di questi camper appunto Knaus. Sì, abbiamo Knaus, oltre che come caravan che è conosciuta da tanti anni, anche come camper. Knaus ha rifatto completamente la linea, quindi abbiamo dei veicoli molto belli, molto nuovi, funzionali, veicoli anche di stretti tipo van, 2,77 di altezza, 2,22 di larghezza, dai 5,90 fino ai 7 metri o dentro ai 7 metri, con dotazioni complete, un look favoloso e come potrai vedere anche delle finiture, dei particolari molto molto belli. Ecco, proprio a proposito di dotazioni, dato che mi dici che questi camper sono veramente dotati di tutto al massimo. Sì, rispetto a tanti veicoli della concorrenza, dove il cliente può vedere che cambia solamente l'adesivo e tutto il resto è uguale, Knaus ha modificato gli interni, ha una linea tutta sua, mobili con le chiusure soft touch, con rientro automatico, aria condizionata, cruise control, l'ABS, tutto di serie. Anche ad esempio nei modelli dove ci sono i garage, ci sono già le due porte di servizio, sia a destra che a sinistra, per un comodo accesso. C'è una centralina di carico dell'acqua, di scarico dell'acqua, di scarico dei tubi, dell'impianto dell'acqua, unificato. Quindi vado in un posto solo e ho tutto lì. Per quanto riguarda invece questi bellissimi design? Il design è completamente nuovo, le finestre, gli adesivi, i profili, è una linea completamente moderna, perché sono veicoli fatti quest'anno e quindi consiglio a tutti di venirli a vedere perché anche il prezzo è molto contenuto. Ecco, a proposito, anche in questo caso, ricordiamo e sottolineiamo i pagamenti molto importanti. Sì, non ha importanza fare pagamenti per contanti, lo sconto ce l'hanno lo stesso. Abbiamo delle offerte, anzi in questo periodo, che consiglio di venire a verificare. E dicevamo, i pagamenti possono essere rateali, senza cambiali, senza ipoteca, senza riservato dominio. La prima rata è uguale all'ultima, senza spese, si possono estinguere in qualsiasi momento. Quindi, non so, 30.000 euro possono essere rate di 100, 200, 300 euro al mese, a seconda in quanto tempo si vuole fare. E addirittura, tu mi dici sempre, che la prima lata la si può pagare dopo? Quattro mesi. Quattro mesi, quindi avete quattro mesi di tempo comodi comodi. Ancora una volta un grande messaggio per quanto riguarda la Knaus, questo veramente camper favoloso, tutto accessoriato, pagamenti comodi. Noi ti ringraziamo Monica e noi per voi ringraziamo ovviamente Casa Magli. Se a Bologna vuoi mangiare le specialità della cucina orientale e le prelibatezze della cucina giapponese, vieni a trovarci nel nuovissimo ristorante Megu Lab. A tua disposizione, un ampio menù con le diverse cucine dell'Estremo Oriente e direttamente dalle maggiori capitali del mondo, la formula All You Can Eat. Mangi tutto quello che vuoi e quanto vuoi a soli 18 euro, comodamente seduto al tavolo. Ti aspettiamo al ristorante Megu Lab, sapori d'Oriente a Bologna. E ormai siamo giunti alla bella stagione. In questo mese vogliamo parlare, grazie a LICMA che è accessori auto, sì, ma anche e soprattutto accessori moto, vogliamo vedere insieme a voi cosa serve per la manutenzione della vostra moto, cosa bisogna fare o sapere in questo momento dell'anno, quando le andiamo a riprendere qui con noi. Per LICMA il portavoce Marco, ciao. Ciao Fabrizia, ciao a tutti. Consigli allora e suggerimenti per i nostri scooteristi e non solo. Certo, come hai detto tu, già l'hai anticipato, dobbiamo tirare fuori le moto, dobbiamo tirare fuori gli scooter, perciò dobbiamo fare un po' di manutenzione. Perciò noi abbiamo tutto quello che riguarda la manutenzione e il poter portare a livello ottimale il nostro veicolo. Abbiamo i manutentori di carica, per chi magari ha lasciato fermo il veicolo un po' di tempo, lo possiamo ripristinare con questo oggetto, con questa attrezza. Abbiamo anche le batterie, casomai non riusciamo a sistemarle, abbiamo le batterie nuove, abbiamo tutto quello che riguarda la manutenzione ordinaria, perciò i filtri, le pastiglie, i filtri dell'olio, i lubrificanti, tutto quello che serve per poter curare il nostro oggetto a due ruote. Poi tu mi dicevi prima che esempio una moto rimanendo ferma può accusare qualcosa anche le marmitte, dove voi siete assolutamente specializzati. Che marche avete? Certo, noi siamo rivenditori Leovinci, Miv, Akrapovic, abbiamo tutto quello che può desiderare un motociclista oggi, sia come ripristino del veicolo originale o altrimenti qualcosa di un po' più sportivo. Voi siete in grado di farli arrivare direttamente a casa, parlacelo un attimo. Certo, se uno non riesce a venire in una delle nostre sedi, visto che noi abbiamo tre sedi a Bologna e a Modena, possiamo anche spedire a casa direttamente dal cliente con un contrassegno, con un nostro corriere convenzionato. E per poter comunicare con voi? Dunque, il nostro numero di telefono del reparto moto è 051 61 11 377. Possono anche mandarci una mail all'indirizzo motocchiocciolaicmabo.it Grazie a te, ovviamente ricordiamo anche tutto quello che sono caschi e portapacchi, ma l'importante è venirli a trovare. Quindi grazie a te Marco e noi cari amici continuiamo. Se vuoi richiamare le vecchie tradizioni della buona tavola, col piacere di stare insieme, allora vieni a trovarci al Salumificio e Salumeria il Divin Porcello. La porchetta è la nostra passione di esclusiva provenienza italiana, cotta al forno con aromi e spezie naturali senza conservanti. E sempre seguendo la passione produciamo la salsiccia passita e fresca, il salame, una spettacolare coppa di testa, i ciccioli, il guanciale stagionati, i cotechini e molto altro. Cosa aspetti? Condividi con noi la nostra passione e vieni a trovarci alle delizie del Divin Porcello. Il nostro magazine si arricchisce di un nuovo spazio Auto Racing, un centro polivalente, vedremo appunto per auto, per camper, per nautica, per moto, ma oggi ci addentriamo nel mondo dell'auto con il cambio obbligatorio delle gomme. Qua con me a parlarcene uno dei due soci, Maurizio che saluta e ringrazio. Ciao, grazie. Allora, cambio di gomme, 15 di aprile, quindi questo mese, perché ormai dobbiamo dimenticarci l'inverno e quindi le gomme termiche. Che cosa succede? Bisogna mettere su delle gomme estive, in quanto quelle termiche con il caldo si usurerebbero molto in fretta. Perché tu mi dicevi che hanno una mescola, diciamo. Più tenera, esatto. E in questo caso, quindi, le caratteristiche che deve avere una gomma che va verso la bella stagione? Deve avere un battistrada adatto sia alla pioggia, che deve essere un po' più dura, in quanto deve resistere al caldo, che sarà in estate. Ora, c'è qualcosa che noi dobbiamo sapere per quanto riguarda invece la pressione di queste ultime? Beh, diciamo che la pressione delle gomme termiche deve essere tenuta leggermente più bassa, in quanto si scaldano più in fretta e la pressione aumenta all'interno del pneumatico. Obbligatorio sempre convergenza e equilibratura. Che servono a cosa? All'equilibratura serve per togliere le vibrazioni che altrimenti si sentirebbero sul volante e la convergenza serve per avere un consumo omogeneo della gomma. Quindi, mi raccomando, nel mese di aprile cambiate le vostre gomme, adattatele appunto alla versione più estiva, più calda. Vi ricordiamo quindi, Autoracing è un centro polivalente, oltre che le vostre auto, i camper, le moto, la nautica, ma soprattutto per l'officina, la carrozzeria, elettrauto, revisioni e impianti, impianti GPL e metano, che sarà l'argomento che trattiamo il prossimo mese. E allora, grazie a te Maurizio, grazie al Soccio Franco, e noi continuiamo. E oggi siamo in compagnia di Alessandro per una nuova rubrica, parliamo dell'agenzia Taddia, 21 anni di esperienza, oltre 100 punti qui in Italia, ma di che cosa si occupa l'agenzia Taddia? Di tutte le pratiche di esercizamento danni, in complessivo. Facciamo un esempio? Passiamo dal danno materiale dell'auto, al danno fisico, all'infortunio sul lavoro e ai casi di malassanità, nonché anche purtroppo ai casi mortali, che in questo caso avvengono anche con l'auto. Ora, ovviamente visto la natura del nostro programma, iniziamo proprio dalle cause dell'auto. Quali sono? Allora, l'auto è appunto definito di per sé stesso il danno materiale, che sembra così semplice, ma comporta già dall'origine subito qualche problematica, soprattutto quando si porta la macchina in carrozzeria, che ci possiamo trovare delle volte che ci siano delle differenze tra la fattura che emette la carrozzeria e eventualmente la liquidazione che deve dare la compagnia. Questa è una delle garanzie che noi da sempre diamo a tutti i nostri clienti di concordare al 100% il danno. Quindi la carrozzeria non pretenderà mai nulla di più di quanto poi l'assicurazione dovrà dare. Questo grazie alle nostre carrozzerie convenzionate che ci garantiscono questo. E inoltre viene data un'auto struttiva al cliente che quando porta l'auto a riparare, gli viene data immediatamente un'auto struttiva direttamente a lui in maniera che la riporta e ritira la sua. Siamo talmente convinti di questo che il cliente non esborsa assolutamente nulla al ritiro, ma ci pensiamo direttamente noi quando arriverà poi la liquidazione da parte della compagnia. Cosa costa? Allora, questo costa esattamente nulla, ma non perché noi siamo gratuiti, ma perché vengono compensate dalla compagnia di assicurazione. Ci erogano loro i nostri onorari e vengono anche scritti direttamente nelle equitanze. Lo scriviamo dappertutto, quindi il cliente in questo caso si trova questa agevolazione dove assolutamente non ha nessun tipo di costo. E viene anche garantito che delle volte ci sono delle responsabilità anche. Molte volte non è detto che possiamo avere completamente torto o completamente ragione. In questo caso noi tramite i periti e tramite i nostri peristi e con la nostra esperienza di oltre 21 anni, come ho detto prima, ci permette subito di valutare questa cosa. Ovviamente loro proprio, perché sono sicuri di questo e non lasciare niente al caso, hanno per voi una rivista che è Taddia Informa che troverete presso le loro agenzie. Agenzie che, vi ricordo, sono scritte ovviamente in un sito che trovate in sovrimpressione, c'è un numero verde per informazioni. Insomma, tutto a 360 gradi può da loro essere risolto per una gestione appunto di risarcimento danni. Grazie a te per il prossimo argomento, ovviamente alla prossima settimana e al prossimo mese. E continua la nostra rubrica per quanto riguarda appunto i consigli e suggerimenti sui vetri delle vostre auto. Motor Glass è sicuramente il numero uno, il professionista d'eccellenza per i vostri vetri. E oggi di che cosa parleremo, Francesco? Parliamo dell'oscuramento dei vetri. L'oscuramento offre sia dei vantaggi funzionali che estetici. L'oscuramento si può fare con delle pellicole certificate, basate sulle nanotecnologie, di quattro gradazioni diverse. Quindi si può anche scegliere il colore che si preferisce e la discrezione all'interno della vettura che si preferisce. Da un punto di vista funzionale, le pellicole invece sono molto importanti perché riducono l'irraggiamento del sole fino al 99% per le pellicole più scure. Diminuiscono anche il calore all'interno della vettura riducendo i consumi. Una cosa importantissima è la sicurezza perché questa pellicola rende infrangibile il vetro e in caso di incidente evita che si scheggi ed esploda. È anche molto importante da un punto di vista della discrezionalità all'interno. Evita gli sguardi di potenziali ladri, quindi si può lasciare tranquillamente nel sedile posteriore, nel bagagliaio, oggetti senza che si vedano dall'esterno. È un trattamento che viene fatto in sole quattro ore e noi di Motorglass vi garantiamo l'auto sostitutiva per queste quattro ore. E allora immaginate, tutto questo grazie ovviamente all'organizzazione Motorglass che fa anche sostituzione, riparazione vetri danneggiati, l'oscuramento che abbiamo visto, ma per l'inverno il trattamento anti-pioggia. Con l'inverno è molto utile perché permette di mettere sui vetri una piccolissima pellicola che permette all'acqua della pioggia di defluire senza rimanere sul parabrezza. Tanto è vero che ai 100 km all'ora non c'è più bisogno di tergicristallo perché il vetro rimane pulito senza alcuna goccia d'acqua. E allora grazie all'esperienza Motorglass i centri, le vedete in sovrimpressione, sono quelli di Modena e di Ferrara. Grazie a te e noi continuiamo. E con davvero importanza e piacere io voglio salutare Raffaella come al solito Raffaella titolare sinonimo di Ford Stracciari in una presentazione oggi veramente dove forse ci vorrebbero i rulli di tamburi, gli squilli di tromba. Di cosa parliamo? La nuova Mustang, veramente uno spettacolo, un mito che dal passato lo ritroviamo ai giorni ad oggi quindi veramente un prodotto particolare. Se ne sono fatti i film, se ne è parlato tanto. L'importante è capire che questa è la nuova Ford in questo caso Mustang, ma rinnovata in cosa? Si è rinnovata? Beh, sicuramente hanno ripreso le linee del passato portando ovviamente delle novità. Abbiamo il motore 5.000 da oltre 400 cavalli e hanno introdotto questo nuovo motore da 2013 cilindrata con oltre 300 cavalli. Quindi un motore altrettanto interessante più accessibile come costo, insomma. Queste sono macchine che si caratterizzano un po' dalla loro musica, dal loro rombo del motore. Sì, è una cosa meravigliosa sentirle accese quando le metti in moto si sente il rombo proprio in tutta la concessionaria. È emozionante, veramente. E allora sul tuo aggettivo, emozionante, questo voleva essere un saggio di emozione perché l'abbiamo solo presentata. È una bella vetrina, mai come in questo caso noi vi consigliamo di venire a vedere. Questa va toccata, annusata, va guardata nei suoi interni, va un attimo... Beh, ci dobbiamo mettere seduti per vedere l'impostazione della guida, bella, sportiva, romante. E allora noi ti ringraziamo perché è stato un piacere averti con noi. Ovviamente in sovrimpressione, vedete, gli indirizzi, non dimenticate stracciare Ford, qui in via Stendale. E allora grazie a te e noi continuiamo. Ed è terminato anche per quest'oggi il nostro magazine Car World. Come al solito, l'appuntamento è rinnovato su questa stessa rete tutti sabati sera alle 23. Questa trasmissione è offerta da Ristorante Pizzeria Napoleone. Cucina tradizionale, specialità di pesce e pizzeria. Grazie a tutti. Grazie a tutti.